Per quasi tutte le antiche culture occidentali e orientali, la farfalla è il simbolo dell'anima, perché farfalla e anima in greco hanno lo stesso nome, e cioè psiche. Ma cosa significa sognare una farfalla o delle farfalle? A seconda di come ci appare in sogno, la farfalla può assumere diversi significati, sia positivi che negativi. Scopriamoli insieme. Sognare una farfalla genericamente promette un futuro cambiamento della visione della vostra vita, una trasformazione interiore, un cambiamento spirituale molto profondo. Sognare farfalle che volano o si posano sui fiori indica che molto presto, probabilmente riuscirete a trovare la pace o una soluzione a dei problemi che vi preoccupano molto. Invece sognare di catturare una farfalla potrebbe promettere che presto riuscirete a catturare il cuore di qualcuno e ricevere amore ed affetto. Invece sognare una farfalla ferita, oppure sognare di uccidere una farfalla, o una farfalla morta, potrebbe presagire che presto avrete dei problemi, delle preoccupazioni. Probabilmente subirete anche un inganno o un tradimento. Sognare di assistere o vedere la trasformazione di una farfalla che esce dal suo bozzolo potrebbe significare che avete bisogno di abbandonare delle vecchie abitudini, oppure di liberare, librare il vostro spirito. Ma questo sogno potrebbe anche indicare che avete un brutto vizio, oppure delle debolezze. Ma scopriamo insieme qualche altro significato. Per una donna ad esempio sognare di essere una farfalla significa che conoscerà presto una persona che la corteggerà insistentemente. Se invece è l'uomo a sognare di diventare farfalla potrebbe presagire che riuscirà a recuperare un vecchio credito o probabilmente avrà un colpo di fortuna. Sognare di catturare una farfalla significa che state attraversando un periodo pieno di sentimenti mutevoli, oppure seguire una farfalla o delle farfalle denota che forse state rincorrendo un amore che si rivelerà incerto. Sognare farfalle morte fa temere che incontrerete un pericolo e catturare delle farfalle segnala che vivrete un amore che durerà poco. Vedere una farfalla vicino a un lume indica che farete delle conquiste effimere. Ma attenzione perché sognare delle farfalle svolazzanti e leggiadre predice che avrete delle idee mutevoli. Cambierete spesso idea. Inoltre, questo è un elenco dei numeri associati alle farfalle nella smorfia napoletana. Sognare una farfalla singola a 60, più di una farfalla a 47, farfalla che si posa su fiori a 11, farfalla che vola a 14, morta a 51, prendere una farfalla a 15, catturarla a 41, inseguirla a 60, essere una farfalla a 13, bianca a 59, che si brucia a 6, colorata a 49, notturna a 33. Nel caso decideste di giocarli, mi raccomando, non più di un euro. E se questo video vi è piaciuto, vi è intrattenuto, e avete voglia di sostenere questo canale, mi raccomando, iscrivetevi e lasciatevi un bel like di supporto. Io ve ne sarò molto grata. E se avete altre curiosità sul significato dei sogni, mi raccomando, fatemelo sapere. Lo indacheremo insieme. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Noi ci vediamo presto. Noi ci vediamo presto. Noi ci vediamo presto. Grazie a tutti.